Sulla data di riapertura delle scuole nel giro di una sola settimana abbiamo sentito parlare di almeno tre ipotesi diverse. Inizialmente pareva possibile che si riaprisse il 4 dicembre, cioè alla scadenza delle disposizioni previste dall'ultimo DPCM. Poi siamo passati alla data del 9 dicembre, strenuamente difesa dalla ministra Azzolina, che pur sapendo che la riapertura durerebbe in tal caso solamente una decina di giorni, cioè fino alle vacanze natalizie, continua a ripetere che comunque anche pochi giorni di scuola sono meglio di nulla. Nelle ultime ore però si sta facendo strada una nuova soluzione. Ormai si parla apertamente del 7 gennaio e non è da escludere che si vada a finire sul giorno 11 dal momento che il 7 cade di giovedì. Ma ormai il governo deve fare i conti non solo con i contrasti interni ma anche con le regioni, che non sembrano davvero marciare tutte nella stessa direzione. Per esempio il Piemonte, che fino a pochi giorni fa era area rossa, adesso è entrato nella zona arancione. Secondo le regole fissate dal governo, gli alunni delle seconde e terze medie dovrebbero poter frequentare in presenza. Ma il presidente Cirio, avvalendosi della facoltà di fissare regole più restrittive di quelle nazionali, ha deciso che nella secondaria di primo grado si continuerà come prima. Ragazzini del primo anno in presenza, tutti gli altri lezioni a distanza. Ovviamente le proteste non mancano e già si segnalano appelli e raccolte di firme di vario genere. Per contro resta il fatto che il 90% dei nostri lettori, rispondendo ad un nostro sondaggio, si dichiara d'accordo sull'evitare il più possibile la didattica in presenza. Ma il vero nodo da affrontare e da risolvere è quello dei trasporti e su questo al momento non si vedono progressi di nessun genere. Si continua a parlare di orari di ingresso e di uscita scaglionati, ma non si discute sulla possibilità di incrementare il parco macchine delle aziende di trasporto locale. Anche perché per la verità acquistare nuovi mezzi in tempi rapidi non è davvero operazione semplicissima. Per la verità la sensazione è che nelle ultime settimane l'attenzione del governo nei confronti della scuola sia un po' venuta meno. D'altronde in questa fase il governo ha anche ben altre gatte da pelare. Prima di tutto si tratta di tenere sotto controllo l'evolversi dell'epidemia cercando di far diminuire la diffusione del contagio. E poi non bisogna dimenticare che proprio una decina di giorni fa è iniziato alla Camera l'esame della legge di bilancio per il 2021. Legge con la quale bisognerà far quadrare i conti dando anche qualche risposta ai sindacati del pubblico impiego e della scuola che chiedono maggiori risorse per adeguare gli stipendi del personale. E a rivendicare maggiori risorse per la scuola e soprattutto per gli stipendi dei docenti non sono soltanto i sindacati ma anche diversi parlamentari della stessa maggioranza. proprio ieri la senatrice 5 stelle Bianca Granato ha fatto capire che in mancanza di segnali chiari lei potrebbe anche non votare a favore della legge di bilancio mettendo così a rischio la stessa tenuta del governo. Ovviamente su tutto questo noi continueremo a tenervi informati quindi continuate a seguirci su questo canale e anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it e ovviamente continuate anche a scriverci a mandarci le vostre osservazioni i vostri commenti noi continueremo a darne conto come sempre. Grazie a tutti.